Un edificio suddiviso in due parti con due destini diversi. La facciata della parte posteriore dell'ex istituto Configliachi è stata acquistata a fine del 2022 dal comune di Padova e dopo i tempi previsti dal programma Pinqua si sta concludendo l'appalto per l'assegnazione dei lavori che daranno il via al primo recupero. Il 18 gennaio scadranno i termini per la presentazione delle offerte. In febbraio verrà realizzata la commissione che a fine febbraio procederà con l'aggiudicazione dei lavori per la gara d'appalto per un valore complessivo di 8 milioni. I lavori inizieranno ad aprile-maggio e entro due anni, entro il marzo del 2026, restituiremo il palazzo Configliachi e la città. L'edificio diventerà uno spazio d'arte e una biblioteca, ma l'opposizione in consiglio comunale attacca l'amministrazione per i molti edifici comunali abbandonati utilizzati dai senza tetto per creare alloggi abusivi. Io penso anche alla ex palazzina del CONI, che il comune quasi sei anni fa ha acquistato per un milione di euro e che doveva riqualificare. Adesso sembra che abbiano cambiato idea e vogliano demolirla dopo averla acquistata. Lo facciano in fretta perché anche quello è uno stabile lasciato a se stesso che potrebbe essere ricovero per senza tetto e potrebbe creare altre tragedie. Un altro esempio sono le palazzine Liberty dell'ex piazzale Boschetti. Anche lì il comune traccheggia da sei anni e mezzo, non è riuscito a riqualificare in alcun modo l'area, ma è sotto la sua diretta responsabilità. Ma la situazione più critica riguarda lo stato di abbandono della parte retrostante, la facciata del Configliachi, parte sostanziale dell'ex struttura Unipab, che per essere venduta alla provincia che da anni la vuole acquistare per trasferire il liceo classico Marchesi, ha bisogno del via libera della Regione Veneto, che non è mai arrivato. Sul caso è intervenuta la consigliera regionale Elisa Venturini. La Regione del Veneto sta seguendo, adesso c'è la necessità di favorire il passaggio di proprietà per risolvere la questione e mettere anche in sicurezza quell'edificio.